carissimi spettatori ricordate l'anno 2020 attività commerciali chiuse molte delle quali non hanno più potuto riaprire, strade deserte e regole assurde che poi si sono rivelate anche discutibili e spesso dannose. Molti di noi, compreso il sottoscritto, hanno dovuto fare anche da cavia contro la propria volontà per potersi guadagnare il pane lasciandosi inoculare un farmaco che ancora oggi, a distanza di tre anni più o meno, ha il triangolino nero all'inizio del bugiardino e purtroppo a molti di noi è andata male, molto male. Nella vicina Italia è andata ancora peggio. Il povero paesello fu letteralmente trasformato in uno stato di polizia sul modello cinese. A questo proposito voglio mostrarvi qualche minuto di video molto interessanti girati nella vicina penisola. Dato che lo spettatore medio di Chiasso TV ha l'abitudine di informarsi a 360 gradi e quindi conosce perfettamente il retroscena che hanno arricchito i soliti noti, non mi dilungherò in altre spiegazioni e mi limiterò a porvi una domanda e contemporaneamente a fornirvi la risposta. Potrebbe succedere ancora di ritrovarci tutti chiusi in casa e questa volta con le stesse regole che a suo tempo applicarono in Italia o peggio in Cina? Assolutamente sì. Potrebbe succedere se alla fine di maggio 2024 e quindi tra un paio di mesi più o meno anche la Svizzera dovesse sottoscrivere il Regolamento Sanitario Internazionale, redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ogni volta che il suo presidente vorrà dichiarare un'emergenza sanitaria o addirittura climatica lo potrà fare. Potremmo ritrovarci ancora una volta agli arresti domiciliari e ancora una o più volte a sottoporci a inoculazioni sperimentate in un tempo ancora più breve o addirittura per nulla sperimentate. Allora per questo il dovere di informazione mi impone di iniziare una serie di interviste per comprendere meglio la situazione che viviamo attualmente e che molto probabilmente andremo a vivere in futuro. L'ospite di oggi è Cristina del Prete, farmacista. Buongiorno Cristina, grazie per essere qua con noi. Buongiorno Giacomo, grazie per avermi invitato. Allora Cristina ci ha inviato alcune bozze di lettere e vorrei che ne spiegasse i contenuti al pubblico di Chiasso TV. Ma la prima domanda è a chi sono indirizzate queste lettere, Cristina? Allora attualmente è andato un po' poco, secondo me si è sentito poco parlare anche nei media. Attualmente l'ufficio di salute pubblica sta attivando delle modifiche, cioè sta facendo delle delle consultazioni su delle modifiche alla legge sulle epidemie.